Sono amico ed estimatore dell'ottimo sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha dimostrato sempre temperamento e carattere. Sono anche convinto che abbia capacità persuasive, soprattutto nel Veneto e nel rapporto con le genti che lo conoscono e che lui conosce. Sono anche buon amico di Totti, lo conoscevo quando ero giornalista di studio aperto per Mediaset, devotissimo a Berlusconi e l'ho sempre trovato persona equilibrata e anche coraggioso nell'avere a un certo punto deciso di uscire da Forza Italia per mettere insieme un gruppo di persone che potessero superare l'idea di un partito che era legato a una persona straordinaria ma sempre più lontana. Quindi è giusto che nel centro-destra ci sia rinascimento, ci sia una componente nuova, ci sia Cambiamo, come lo chiama Totti, o Coraggio Italia, come chiama il suo gruppo, il suo movimento Brugnaro. Quindi con loro posso parlare, ma chiedendo loro un atteggiamento di responsabilità, occorre trovare elettori, elettori perduti da Forza Italia, non eletti, non andare a fare una caccia al deputato per portarlo da Forza Italia a un gruppo nuovo. La campagna acquisti per deputati disperati perché non verranno più rieletti non serve a nessuno, né a loro che saranno illusi, né a nuovi partiti per farsi, come dire, belli con eletti altrove che per paura se ne vanno. Quindi io ho scritto un messaggio agli amici Brugnaro e Totti esortandoli a lavorare perché si allarghi, ritorni grande la componente che si è chiamata per lungo tempo Forza Italia e che oggi ai giovani appare una cosa molto lontana del secolo scorso, come nel secolo scorso è nata. Invito Luigi Brugnaro a non fare campagne acquisti inutili nella casa di Forza Italia. Per ognuno c'è il suo destino nella fortuna e nel declino. Se vuole ritrovare e interpretare i valori di quel mondo si iscriva al Rinascimento, ovvero stia con il Rinascimento o faccia quello che sto facendo, cercando nuovi elettori fra i giovani che hanno bisogno di idee giovani legate alla vita vera rispetto a un partito istituzionale che ha fatto la sua storia. Quindi io cerco loro, cerco quelli che hanno fiducia in me e in quello che ho fatto in questo periodo, in questo anno terribile, più di un anno in cui siamo stati chiusi con nessuno né Brugnaro né Totti che si è ribellato alla limitazione delle nostre libertà. Quello occorreva fare e io l'ho fatto. Loro non l'hanno fatto. L'ha fatto con me Giorgio Agambe, l'ha fatto grande filosofo, l'ha fatto Berlana Lilevi, l'ha fatto il professor Becchi, l'ha fatto Vargas Llosa, grande scrittore. Non l'hanno fatto questi nuovi leader. Il Rinascimento esiste e si muove se non è stato il primo partito, tra l'altro io ho presentato delle liste alle uniche elezioni prima delle prossime amministrative, ad Aosta. Il primo partito della recente amministrativa era Aosta con il 25%. Servono elettori, cari amici Totti e Brugnaro, non eletti con altri partiti. Quelli, se delusi, se impauriti, vanno cercati. Vanno cercati perché non si possono più fidare dei partiti tradizionali che gli hanno raccontato una quantità di bugie in questo lungo anno. E non vanno cercati invece marinai che cambiano bastimento mentre la loro nave sembra affondare. Brugnaro è un buon sindaco, come lo sono anch'io, e potrebbe partire da quella esperienza per muoversi, con la sua esperienza, in un partito dei sindaci, non di parlamentari impauriti per la preoccupazione di non essere rieletti. Lasci stare Forza Italia, simbiottando perfino il nome dell'improbabile Coraggio Italia. Si tratta di un'esortazione, non di una indicazione di valori ideali. Non era bastata la formula preonastica di Totti, cambiamo, per creare invece coraggio, scomodando ancora una volta, come il povero Rienzi, l'Italia. Coraggio Italia. Con la zavorra dei deputati che non saranno rieletti. Tra Venezia e Genova raggiungeranno forse l'1%. Non hanno la forza di utilizzare i voti di quei deputati, che quei voti hanno perduti. Senza evocare alcuna speranza e nulla di nuovo per quello che propongono o non propongono. Gli elettori giovani li ignoreranno, considerandoli sopravvissuti. Provino, invece con i deputati, con forze nuove a rinascere. Lasciano stare Berlusconi e gli eletti del suo partito. Non è un buon inizio. Comunque coraggio e auguri. Quindi io andrò avanti, cercherò di trovare nuovi elettori o elettori delusi o elettori che se ne sono andati, ma cercare gli eletti è un grave errore. È un modo per mettersi contro il partito da cui si proviene, cercando di dare ai traditori uno spazio che non meritano.